Destro, solamente destro, solo sinistro facciamo questo, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, destro, destro. Quello che io vi faccio vedere è la perfezione, non da un punto di vista di espressione di forza, ma da un punto di vista estetico. Perché voi vedete che io quando lo faccio, lo faccio sempre con la posizione di stacco corretta, la gamba si estende, la faccio con una facilità tranquilla, tant'è vero che non mi viene neanche il fiatone, oppure che io non mi alleno mai, perché conosco il movimento, quindi non mi stanco, economizzo. Proviamo il passo di staccarterna. Ragazzi, ragazzi, piano piano. In avanti o in alto? Bravo. Non guardare per terra, guarda avanti. Questo va bene per... Eccolo lì. Sì, tu per tu, questo va bene pure per i maratoneti. Top level. Bravo. Così, bravissima la signora. Brava. Perché le signore sono sempre più bravi? Perché nella casa siamo destinati all'estinzione, uomini. Perché non siamo coordinati. Quello è il balzo alternato. Bravo. Quello non è il passo e stacco alternato, quello è il balzo alternato. Due signore hanno fatto i balzi alternati. Ai Dio. Bravi, bravi, bravi. Quello è il balzo alternato. Allora, benissimo, benissimo, lo vediamo. Allora, ci sono tre persone che hanno fatto il balzo alternato. Noi abbiamo chiesto il passo e stacco alternato. Ah, ok. Che differenza c'è tra un balzo alternato e un passo e stacco alternato? Forse è troppo alto. Tienelo così. C'è il passo, no? C'è un passo e stacco, un passo e stacco, un passo e stacco. Il balzo è più lungo? Il balzo alternato è una conseguenza progressiva e continua di balzo. Ok. Perché il mio appoggio a terra che sembra brutta pianta, quasi sembra che anticipo con i talloni. Ma è sulle punte. Allora, proviamo a fare i balzi alternati. E chi ha fatto il balzo alternato prova a fare il passo e stacco alternato. Chi ha fatto il passo e stacco alternato fa il balzo alternato. Andiamo. Tutto piede a terra. Devi farlo. Bravissimo. Sono freddo, tu la ripresa che io provo. Bravo, Giovanni. Tanto devi guardare soltanto qui. Questo è il balzo alternato. Se ci vede o sì. Bravi. Ragazzi, non cercate grande ampiezza, cercate il movimento. Bravi. Bravi, 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 bravi. Signora, tutto il piede a terra. Non andiamo sulle punte. Alternato, alternato. Bravo, Isma. Bravi, ragazzi. Bravi. Si spegne? No, no. Non colpire tanto niente. No, ma tutto io lo devo fare per la schiena. Sì, bravi. Non voglio che mi riaccomando di... Allora.